Buongiorno e benvenuti a tutti. Come vedi la casa dei tuoi sogni? È sicuramente grandissima, su numerosi piani, dispone di una piscina e di una bella vista, così come ovviamente di molte camere che possiedono ognuna il proprio bagno. Già infatti è bello sognare, ma purtroppo la realtà è tutt'altra cosa. La popolazione mondiale aumenta drasticamente giorno dopo giorno. Degli esperti di tutto il mondo si chiedono quali spazi potranno occupare da qui a 40-50 anni gli abitanti e molti di loro pensano che delle case strette e compatte siano la soluzione migliore per risolvere questo problema. Forse hanno ragione, visto che queste case usano davvero poco spazio e offrono un vero comfort abitativo. Oggi stiamo per presentarti alcune delle case più strette del mondo, in modo che tu possa renderti conto di ciò che forse ci aspetta domani. Questa casa, caratterizzata dalla sua larghezza molto minima, non può essere confusa con nessun altro edificio. Infatti è circondata da case completamente normali, il che rende il contrasto ancora più sorprendente. Tutto è cominciato perché una coppia giovane non poteva permettersi una casa convenzionale a Londra. Allora hanno comprato una superficie di 38 metri quadrati e hanno iniziato a costruire loro stessi la casa. Infine è apparso questo bel edificio triangolare. Le spese di costruzione rappresentavano 323.000 sterline, ossia circa 360.000 euro. Pensi che fosse una cifra importante? Infatti, i prezzi dell'immobiliare londinese sono incredibilmente alti. Tuttavia il costo della casa e della sistemazione interna è molto più debole dei costi normali. Ciò è costato 100.000 sterline in meno di qualsiasi altra costruzione immobiliare della città. Questa casa possiede molte camere e tutto quello di cui si ha bisogno per vivere inoltre il terrazzo offre una vista magnifica. Tokyo è una città famosa per le sue minicase. Il suo metodo di costruzione consente un'ottimizzazione massima dello spazio, ma consente soprattutto ad ogni abitante medio della capitale giapponese di avere una casa ad un prezzo accessibile, il che non è necessariamente possibile con delle abitazioni di dimensione normale. La costruzione dell'edificio che vedi attualmente è durata soltanto un anno e ti sbagli se pensi che c'è posto per una persona sola. Questa casa è concepita per una coppia giovane. Tra l'altro c'è persino una camera per dei futuri figli. La superficie abitabile misura 70 metri quadrati. Il proprietario assicura di non mancare nessun modo di spazio. La cosa più importante per lui è di non impantanarsi in mutui senza fine e non doverne pagare fino alla fine della sua vita, anche se la sua proprietà non è molto grande. Infatti i prezzi immobiliari sono incredibilmente alti a Tokyo. Questa casa è un'altra illustrazione che dimostra come la compattezza può essere perfettamente compatibile con il comfort. Questo edificio misura 2,2 metri di larghezza, ma all'interno c'è una cucina completamente equipaggiata e una camera. Il salotto e la sala da pranzo sono collegati. Il proprietario ammette che la sua casa è molto piccola, è grande quanto un posto di parcheggio ma ha il prezzo da pagare per vivere nella capitale. La storia della casa che segue è straordinaria. Durante la guerra civile americana due fratelli hanno ereditato del terreno di loro padre. Mentre uno era in guerra, l'altro ha costruito una casa senza il suo permesso, la quale attualmente si trova ancora dietro alla casa di cui parliamo ora. Quando il primo fratello è tornato e ha visto la casa costruita senza il suo permesso, si è arrabbiato e ha deciso di fare di tutto per impedire l'arrivo della luce del sole e rovinare la vista del suo fratello vicino. Non era un gesto molto nobile, ma è successo più di 150 anni fa ed è diventata un'attrazione turistica a Boston. Questa casa misura soltanto 2 metri di larghezza, ma gli architetti hanno logicamente compensato la larghezza ridotta con un'altezza più elevata. Mentre le case che abbiamo appena visto sono soltanto strette, la prossima è proprio molto, ma molto stretta. Si trova nella città portoricana di San Juan. A differenza degli altri edifici di questo video, questo qua non è pensato come un'abitazione. Si tratta di una delle 10 case più strette del mondo, un'attrazione turistica che gli indigeni mostrano con orgoglio ai turisti. La larghezza esterna misura 1,6 metri, ma siccome questa casa è di color giallo vivo, si distingue dalle altre e sembra molto più stretta di quello che è in realtà. C'è gente convinta che questo edificio sia il più stretto del mondo, ma è falso. Infatti ora stiamo per parlare di quella che è veramente la casa più stretta del mondo. Nel 2012 un nuovo record entra nel Guinness Day Record, quello della casa più stretta del mondo. Si trova a Varsavia, in Polonia. Misura 92 centimetri di larghezza nel posto più stretto e 152 nel posto più largo. Sorprendentemente misura comunque 14 metri quadrati. È una casa piccolissima, da due piani, che si trova tra due case di dimensione normale. Ci troviamo una cucina, un bagno e ovviamente una camera da letto. Ma purtroppo, per quelli interessati, non ci si può abitare. In realtà questa casa è un progetto artistico di un architetto polacco. La sua idea era che la gente che avrebbe soggiornato in questo piccolissimo spazio provasse un sentimento intenso di vita. Ma il concetto non ha proprio funzionato. Infatti, soltanto un giornalista ci ha trascorso la notte e poi ha espresso il suo malessere fisico quanto psicologico. Vengono costruite delle case strette ovunque nel mondo. Questo edificio si trova nel nord della Germania, a Kiel. Il suo creatore pensa che l'architettura moderna non abbia bisogno di molto spazio. Un piccolo interstizio tra due edifici basta ampiamente. L'edificio è di forma triangolare. Ecco perché la larghezza anteriore misura 4,5 metri, mentre quella posteriore misura soltanto 80 centimetri. Se hai guardato questo video attentamente, allora starei pensando che 4,5 metri di larghezza sia molto generoso quando esistono degli edifici che misurano soltanto due metri e mezzo. È vero che 4,5 metri di larghezza siano relativamente pochi in confronto a delle costruzioni normali. Siccome l'edificio si inclina verso il retro, c'è molto meno posto di quello che si pensa a prima vista. Ma nonostante la piccola dimensione, l'architetto dichiara che non manca posto perché lo spazio si estende su tutti i piani, quindi ascolta come Bjorn Simpson, l'architetto di questa casa, ha avuto l'idea di costruirla. In realtà, quando era ancora studente, è passato davanti a questo luogo e ha notato uno spazio tra i due edifici. Di conseguenza, per divertirsi, ha deciso di immaginare una casa in questo interstizio e qualche anno dopo il suo progetto è diventato realtà. La facciata di questa casa non è particolarmente notevole, ma quando se ne fa il giro è tutto particolare. La gente immobiliare chiama affettuosamente questo edificio di stile coloniale spagnolo la fetta di formaggio e spiega che è la casa più inverosimile che abbia mai venduto. I visitatori esprimono spesso il desiderio di visitare l'interno della casa perché sono curiosi, ma nessuno la compra. In realtà, quando si guarda in lato, si nota che questa casa è estremamente stretta. Si trova a Seattle, negli Stati Uniti, e la sua larghezza, nel posto più stretto, è di 22 cm. Esistono due versioni che raccontano la storia dell'apparizione di questa casa. Secondo la prima, uno dei proprietari si sarebbe diviso da sua moglie, la quale le avrebbe lasciato questa parte stretta della proprietà, mentre nella seconda la proprietà sarebbe stata venduta in seguito ad un tradimento. Ma entrambe le storie hanno qualcosa in comune. Per nessuna è possibile che la casa sia semplicemente stata costruita così. Comunque sia, la casa è qui, è carina e possiede due belle camere e bei bagni. Inoltre c'è anche abbastanza posto per viverci comodamente. Ci troviamo anche molti armadi e ripiani in cui si possono sistemare molte cose e quando si è all'interno la forma improbabile di questa casa non si nota nemmeno. Il Giappone è un paese con mancanza di spazio e questo penalizza il prezzo delle abitazioni. Ognuno cerca di fuggire da questa situazione. Per esempio, l'azienda Mitsushi, architect atelier, ha deciso di costruire questo tipo di casa stretta. Si chiama Orinoshi e si trova su un piccolissimo terreno triangolare. È sorprendente, ma una famiglia di tre persone può abitare comodamente in questa casa. Su 30 metri quadrati si trovano due camere, una cucina, una camera degli ospiti e persino un posto garage. Non lasciarti stupire dalla dimensione di questa casa di Londra perché costa, attenzione, tieniti forte, un milione di sterline, il che rappresenta circa 1.800.050 euro. Tuttavia è estremamente spaziosa e comoda. Secondo la proprietaria, troveremmo tutto ciò di cui si può sognare. Sui tre piani si trovano tre bagni e quattro camere da letto, ognuna abbastanza grande per non starci stretti. La porta sul retro porta ad un cortile carino ma non troppo stretto. In genere i proprietari sono completamente soddisfatti. È anche interessante vedere che questo edificio non è sempre stato così accogliente. Dieci anni fa non era così attrattivo. In passato c'erano soltanto due camere. Infatti delle ristrutturazioni possono cambiare tutto. Quando si guarda questa casa incredibilmente stretta, si ha l'impressione che venga direttamente dall'universo di Harry Potter. Sicuramente conosci già quell'incantesimo d'estensione che aumenta la capacità di una stanza, a seconda del bisogno. Beh, qui è esattamente la stessa cosa. La casa piccola e stretta di Toronto possiede una cucina spaziosa così come un bagno, un salotto e due camere da letto. Inoltre ci troviamo anche un altro bagno, una camera da letto principale, una sala da pranzo e, attento, una piccolissima vasca idromassaggio. La larghezza esterna della casa misura 2,2 metri e la larghezza interna 1,1. Gli architetti che hanno concepito questa casa dichiarano con molto orgoglio che questa casetta ha tutto ciò di cui si ha bisogno per condurre una vita felice. Ovviamente è troppo piccola per organizzare una mega festa con molti invitati, ma altrimenti la casa è perfetta. Forse sembra strano, ma il giardino che si trova intorno alla casa è più largo della casa in sé. Difatti i proprietari chiedono ai loro invitati di mettersi fuori quando vogliono organizzare una festa. Allora, quale di queste mini case hai preferito? Faccelo sapere nei commenti. A presto!